Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di Oggi con fra Stefano, il Vangelo del Giorno venerdì 10 novembre San Leone Magno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio, che mai permetti alle potenze del male di prevalere contro la tua chiesa, fondata sulla roccia dell'apostolo Pietro, per intercessione del papa San Leone Magno, fa che essa rimanga salda nella tua verità e proceda sicura nella pace. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che cosa sento dire di te, rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé, che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione, zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, per quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sarà qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, tu quanto devi al mio padrone? Questi rispose, cento barilli di olio. Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Rispose, cento misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore Lode a te o Cristo Tu quanto devi al mio padrone? Qual è il debito che hai accumulato con Dio? Quanti errori abbiamo fatto nella nostra vita! Nemmeno noi siamo capaci di calcolare tutti i danni che abbiamo procurato a noi stessi e agli altri a causa dei nostri peccati, per colpa di scelte stupide, superficiali, affrettate. A volte abbiamo sbagliato senza accorgercene, altre volte eravamo consapevoli di fare la cosa sbagliata e l'abbiamo fatta lo stesso. E chissà quanto sarebbe stata diversa la nostra vita se non avessimo fatto certi sbagli, certi peccati. E una cosa è certa che anche oggi, nonostante tutto, faremo qualche errore. E questo dovrebbe essere un principio per noi, per essere un po' più umili, meno arroganti, con le persone che hanno qualche debito nei nostri confronti. Magari anche loro un giorno capiranno il male che hanno fatto e se ne pentiranno. Dio è sempre pronto a perdonarci per i nostri peccati, però ci resta male quando vede che noi, una volta ottenuto il suo perdono, tra di noi ci trattiamo senza nessuna pietà. Perdonare chi ci ha fatto del male è anche un modo per onorare Dio, che non tiene conto dei nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! Ed ho il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e per favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto Ciao ciao e abbi cura di te